E' scritto a parlare il senatore Brizziarielli, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Dovremmo dire che non c'è due senza tre, visto che ci sono altri 25 miliardi di scostamento che noi responsabilmente abbiamo votato, che portano il totale a oltre 100 miliardi, ma purtroppo ci ascoltate quando si tratta di votare lo scostamento, non ci ascoltate praticamente mai quando si tratta di decidere come impiegare le risorse, se non per quegli argomenti che sono talmente evidenti che non li si può negare. Peccato allora che il re, e anche il conte, mi permetto di dire, sia nudo e il bazooka sia scarico. Oggi persino il Presidente del Senato ha richiamato alla necessità di dire le cose come stanno, di dire quello che serve fare. Allora, in apertura, noi abbiamo fatto alcuni esempi negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e non era possibile non cominciare, come ha fatto il collega Bergesio, dalla situazione che si è creata in numerose regioni per il disastro causato dal nubifragio, dal maltempo. Mi dispiace, collega D'Arienzo, serve ricordarlo in quest'Aula perché non permette di risolvere, ma serve a ricordarlo e è doveroso per non essere complici. Ci ha fatto un elenco di tutto quello che non serve, puntuale ma non condivisibile. e io aggiungo una cosa che non serve fare, inutile dire quanto si stanzierà nel 2031 e non dire perché non si è fatto qualcosa l'anno passato, perché non si sta facendo qualcosa quest'anno e perché non si accelereranno gli investimenti in maniera più consistente di quello che è stato fatto con questo decreto. Si chiedeva provocatoriamente che cosa avreste fatto voi. Beh sicuramente avremmo approvato oramai se non fossimo stati rallentati da una forza politica ben precisa e mi riferisco ai 5 Stelle, quella legge che il 4 aprile del 2018 insieme al collega Arrigoni come lega abbiamo depositato per semplificare la pulizia dell'alveo dei fiumi e dei torrenti e non è la prima volta purtroppo che lo ricordiamo. Ecco, quello sarebbe stato possibile fare se quella legge fosse stata calendarizzata e approvata. Allora facciamolo ora, non significa approvarla alla lettera per come è stata ripositata, ma si può prendere una buona volta un impegno corale, qualche volta l'abbiamo fatto e unanime in quest'Aula, si può calendarizzare in Commissione Ambiente quel disegno di legge, abbinarne magari altri, da arrivare a una pronta approvazione perché sia questo sì veramente l'ultima volta in cui ce lo ricordiamo visto che siamo tutti in quota parte responsabili se non siamo stati in grado di dare una risposta. Ma ci sono altri emendamenti che abbiamo presentato, non provocatori, che cercavano di completare magari anche qualche spunto valido, ma perché trovare all'articolo 11 del decreto un importante, sacrosanto intervento per l'arsenale di Taranto e negarlo all'arsenale di La Spezia? C'è qualcosa di diverso? Allora, se è ammissibile intervenire giustamente per accelerare le assunzioni per l'arsenale di Taranto, perché per La Spezia no? Perché, ad esempio, no per il polo di mantenimento delle armi leggere dell'esercito di Terni che comunque richiede delle assunzioni fondamentali per efficientare e per ridurre i costi che lo Stato sostiene proprio per l'assenza delle assunzioni. Ricordo che questo era l'impegno che ha preso il Ministro Guerrini, non con noi, non con l'opposizione, ma ad esempio con l'Onorevole Verini, segretario regionale Umbro del PD, appena qualche settimana fa nel rispondere a un'interrogazione. Però, ribadisco, l'arsenale di Taranto sì, quello di La Spezia e il polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, no, queste sono le discrepanze e le ingiustizie che vediamo, ma ce ne sono altre. È quell'ingiustizia rispetto alla quale tutti i gruppi parlamentari, tutti, con magari sensibilità differenti, all'articolo 59, hanno fatto presente che è ingiusto e non può essere ingiusto il Parlamento e il Governo dire che aiutiamo le attività economiche dei centri storici delle città d'arte a vocazione turistica, ma solo quelle dei capoluogo di provincia, come se le decine, decine, centinaia di località d'arte a vocazione turistica italiane che non sono capoluogo di provincia non abbiano lo stesso diritto e non abbiano subito gli stessi danni per quanto riguarda le attività economiche di tutti gli altri. e c'erano, ripeto, emendamenti di tutti i partiti politici e dovrei fare una classifica che il tempo non mi consente dei comuni danneggiati. Ma uno ne citerò, perché da lì il 14 agosto siamo partiti e con i colleghi borgonzoni e centinaia abbiamo denunciato questa ingiustizia. Il comune d'Assisi è un comune che ha 28.000 residenti che è di fatto la capitale diciamo così per certi versi italiana visto che è legata a San Francesco di cui ieri ricorreva l'anniversario ebbene ha 20 volte le presenze turistiche straniere rispetto ai residenti 1.200.000 presenze all'anno 600.000 straniere il principio il criterio che si chiede che si introduce è quello di tre volte i residenti se si è capoluogo di provincia e allora è inutile andare a fare una passerella come ha fatto ieri il Premier Conte accompagnato dal Ministro Di Maio ad Assisi una passerella ahimè a mani vuote perché quell'emendamento all'articolo 59 è stato bocciato in tutte le salse con gli emendamenti della Lega di Fratelli d'Italia di Forza Italia del PD di Italia Viva dei Cinque Stelle di Leo nessun emendamento accolto e non è possibile si dice sempre quando ci sono argomenti come questi era giusto ma non c'erano le risorse arrivare a dire che non ci sono le risorse rispetto ai 500 milioni di base quando si hanno a disposizione 25 miliardi di euro e l'intero Parlamento chiede un intervento è ingiustificabile ma c'è di più siamo arrivati per quanto riguarda la materia ambientale a gioire non per qualcosa di buono che è stato fatto in avvio alla conclusione Presidente ma per un errore che è stato corretto perché se non ci fosse stato l'intervento anche qui sottoscritto poi da tutti i gruppi ma presentato a mia prima firma della Lega per evitare il blocco della raccolta differenziata e il conferimento in discarica avremmo avuto tutto fermo dal 29 settembre perché perché nel recepire una delle direttive più importanti che si aspettava da quasi due anni sull'economia circolare quella per il conferimento in discarica nonostante la conferenza Stato-Regione l'avesse segnalato nonostante la Commissione Ambiente all'unanimità l'avesse segnalato l'errore il governo ha sbagliato una letterina ha richiamato la tabella 5A invece che la tabella 5 mettendo di fatto fuori legge il conferimento dei rifiuti urbani in discarica cioè se non avessimo corretto noi questo errore si sarebbe bloccato tutto allora io dico sarà importante che in una Repubblica parlamentare ogni tanto il governo oltre che dopo aver fatto l'errore come in questo caso anche prima ascolti un po' più il Parlamento soprattutto quando tutti i gruppi sono d'accordo per evitare che i problemi si creino potrei andare molto avanti faccio solo una breve elencazione tutto quello che si sarebbe potuto fare non si è fatto ma si potrà fare nel collegato ambientale così lì l'inammissibilità non c'è sblocchiamo una buona volta la chiusura del ciclo dei rifiuti con l'utilizzo del combustibile solido secondario tutti i gruppi sono d'accordo tranne uno ebbene questo è un esempio ce ne sarebbero altri dico che l'Italia non merita tutto questo non merita che un singolo gruppo parlamentare soprattutto in materia ambientale blocchi tutti gli altri non lo meritano gli italiani di oggi e di domani visto che il conto dei 25 miliardi lo pagheranno anche i nostri figli potete autoassolvervi in quest'aula però a condannarvi ci penserà la storia a cancellarvi elezione dopo elezione ci stanno pensando gli elettori grazie